ok perfetto l'ho accettato ok allora quindi vediamo un po' quindi la scheda candidatura e scheda proposta quindi per ricapitolare un po' qual è il processo nel momento in cui voi accogliete una persona l'ascoltate non ho capito è rimasto la fase della riunione in fase di registrazione io l'ho accettata te monica risulta che sta registrando a me risulta in corso sì a me in alto c'è scritto ok 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 perfetto allora quindi allora quindi diciamo il processo stavamo dicendo quando voi accogliete una persona l'ascoltate l'orientate fate un orientamento di primo livello come diceva monica poi dopo nel dettaglio con bruno e roberta vedremo questo orientamento di primo e di secondo livello quindi una volta che avete orientato la persona e avete o ipotizzato una misura ad attivare quindi che sia un tirocinio un corso di formazione o se avete già in mente o se avete già un'azienda dove attivare un tirocinio o un ente di formazione sarebbe anche preferibile così già ce la indicate una volta che avete ipotizzato appunto un percorso avete già un percorso decidete di compilare quindi questa scheda candidatura ed inviarla all'equip di progetto un'altra ipotesi per utilizzare questa scheda di candidatura è quella che ci arriva in risposta alla nostra scheda di proposta quindi noi abbiamo un'opportunità di lavoro tirocinio corso di informazione vi inviamo la scheda di proposta e voi ci risponderete appunto con la scheda candidatura allora ora la vediamo così un po' ora la vediamo un po' più zoomata questa è la scheda candidatura che appunto è importante comunque compilarla il più possibile con ordine con precisione come vi ho detto la scorsa volta noi ve lo invieremo comunque in formato word che è già modificabile in automatico dal computer così vi sarà semplice compilarla infatti poi vedrete dove ci sono le scritte con quei quadratini lavoro tirocino eccetera cliccando direttamente con il mouse sul quadratino in automatico verrà flegata la voce quindi abbiamo cercato il più possibile di semplificare la compilazione quindi bisogna inserire la data appunto il codice SIS quindi così noi possiamo accedere un po' al profilo generale della persona sia dal punto di vista eh appunto per della storia personale sia per scaricare in caso la la documentazione ci indicate da chi viene inviata quale cda o servizio l'operatore o il volontario che la invia e poi appunto ci flegate quale eh la la misura che vorreste attivare quindi lavoro tirocino corso di formazione o orientamento vediamo nello specifico questo numero di riferimento che ha un asterisco ed è scritto indicato nella scheda proposta se si tratta di orientamento o candidatura generica ovvero non in risposta ad una specifica opportunità lasciare il campo vuoto quindi che significa che noi abbiamo veniamo a conoscenza di un'opportunità di tirocino di corso eh vi inviamo la scheda proposta dopo la vedremo vedete che in alto nella scheda proposta ci sarà un numero di riferimento quindi noi indicheremo il numero della proposta per esempio zero uno zero due eccetera se voi state candidando la persona quindi per quella specifica proposta che abbiamo inviato ci scrivete appunto in questo campo il numero di riferimento se invece voi per esempio ci inviate eh la scheda non in risposta ad una nostra proposta ma perché per esempio avete fatto un orientamento di primo livello vi rendete conto che sì questa persona delle competenze eh però avete un po' più di difficoltà magari eh ad individuare eh quale misura attivare potete inviarcela per un orientamento di secondo livello quindi un po' più specifico così poi noi incontreremo la persona per definire meglio insieme il percorso quindi quando si tratta l'invio per un orientamento o se voi inviate una candidatura generica perché per esempio avete già individuato l'azienda avete già individuato l'ente di formazione e volete inviarcela per appunto avviare il percorso poi eh che si spera nella futura attivazione o avvio questo numero di riferimento questo campo la lasciate libero poi eh appunto sotto abbiamo la parte anagrafica della persona dove ci indicate tutti i dati quindi nome e cognome eccetera e poi eh appunto un po' i requisiti eh di base che ci servono per delineare un po' più rapidamente la la figura della persona mi ricordo che l'altra volta c'è stata fatta la domanda per esempio sulle competenze digitali che noi abbiamo inserito che partiamo da sufficienti buone eh eccetera e c'è stata posta la domanda nel caso in cui la competenza non ci fosse nemmeno di base cosa facciamo lasciate libero il campo quindi se noi vediamo che in competenze digitali non avete flegato nulla noi diciamo capiamo che appunto la persona non ha nemmeno una competenza di base quindi non non ha competenze digitali posso fare una domanda? Sì certo. Sia per l'italiano che le competenze digitali questo sufficienti buone ottime dovrebbero riferirsi a delle modalità standard altrimenti si rischia che io faccio la scheda dando per buono un certo tipo di competenza mentre invece un'altra persona quella stessa competenza la chiama sufficiente ottima. Allora questo sì effettivamente sì noi avevamo anche pensato perché come sappiamo anche sui curricula a volte si segna per esempio il quadro comune di riferimento europeo addirittura cioè a un livello a uno a due diciamo abbiamo voluto un po' semplificare perché magari individuare qual è esattamente il livello di competenza magari un po' più complicato però se per esempio noi vediamo che la persona almeno di conversazione base nel dirci come si chiama che lavoro ha fatto magari non in italiano perfetto ma almeno le argomentazioni di base riesce a farcele possiamo pensarla come sufficiente. Quando è una persona che anche dal punto di vista magari di argomentazione o grammaticalmente riesce a svilupparla diciamo un po' di più l'argomentazione vediamo un po' di valutare tra buona ottima. Il problema si pone soprattutto per le competenze digitali che sono qualcosa di specifico cioè esistono delle metodologie che dicono che significa sufficiente buona ottima per l'aspetto digitale. In questa fase a noi non interessa entrare proprio nello specifico professionale a noi serve un orientamento di massima per cui con un po' di buon senso noi riusciamo a capire il livello. Poi c'è tutta una metodologia che che è in grado attraverso il bilancio e varie forme di bilancio delle competenze di stabilire il livello però in questa fase a noi occorre più o meno una una informazione di massima rispetto a queste cose. Sì infatti anche perché poi nel momento in cui verrà inviata la scheda candidatura comunque allegherete anche il curriculum quindi magari lì se avete più tempo nel curriculum insomma di solitamente si specifica lo specificate lì e lo vediamo lì poi più nel dettaglio diciamo magari è più comodo fare così. Ok quindi queste appunto sono un po' i requisiti in genere patente l'abbiamo anche visti l'altra volta il permesso di soggiorno in caso di stranieri e la categoria soggetta da assunzione agevolata appunto giusto per avere un'idea se per esempio è scritta garanzia giovani così una ricerca ipotetica di lavoro attivazione di tirocinio magari sappiamo che possiamo attivare garanzia giovani. È preferibile sapere anche il centro per l'impiego di quale è iscritto e magari si riesce a farlo anche prima di arrivare da noi è molto più semplice così anche può diciamo per rispondere alle offerte di lavoro o comunque sapere dove dirizzare già la persona e poi vabbè la conoscenza delle lingue straniere se conosce anche altre lingue. Questa quindi è la scheda candidatura. Ora vediamo la scheda proposta quindi quella che inviamo noi. Allora vediamo un po' più nel dettaglio. Come vedete qui compare di nuovo il numero di riferimento quindi è quello che indichiamo noi che nel momento in cui voi eh vogliate inviare una persona candidarla per una proposta che noi abbiamo inviato prendete il numero di riferimento che noi inviamo qui e e quindi poi noi vi indichiamo che la con la presente si comunica che si è resa disponibile un'opportunità di lavoro tirocinio corso di formazione e vi indichiamo la figura professionale appunto del lavoro tirocinio di riferimento o del corso di formazione quindi per la la figura per la quale si andrà a formare la sede con quindi l'indirizzo il nome dell'ente o dell'azienda e il numero di risorse richieste quindi perché può capitare appunto che per un lavoro un tirocinio o i corsi di formazione vengano richiesti appunto più di una figura. E eh poi anche noi inseriremo alla data in quanto anche questa è importante come eh informazione sia per noi che per voi perché come vedete in fondo noi quando inviamo una scheda la scheda di proposta chiediamo di eh inviarci la la scheda candidatura entro sette giorni dalla comunicazione che noi inviamo quindi per quale è importante che inseriamo sia noi la data sia eh voi così ci inviate le schede il curriculum e quanto altro quanto serve. E ehm quindi la seconda parte della scheda abbiamo a sinistra eh la compileremo nel caso in cui dovessimo appunto avere opportunità di lavoro e a destra il tirocinio o il corso di formazione. Quindi indicandovi come abbiamo visto anche l'altra volta un po' tutto nel dettaglio il tipo di contratto, l'orario di lavoro, eh i requisiti che sono richiesti per poter candidarsi eccetera così avete un po' idea eh per capire la persona da candidare. Anche del tirocinio o il corso di formazione vi metteremo tutte le informazioni sul periodo di svolgimento se per esempio un tirocinio di quattro o sei mesi o un corso di formazione se sappiamo proprio le date eh la durata totale quindi soprattutto nel corso di formazione se sappiamo che c'è una parte di teoria una parte di pratica ve lo specifichiamo insomma vi mettiamo un po' tutto eh nel dettaglio. Ok questi sono eh gli strumenti appunto che andremo ad utilizzare. Eh scusa una domanda. Sì. È possibile. Eh questa eh scheda proposta viene con quale criterio viene inviata? Cioè vengono inviate a tutti i PTA oppure a PTA di particolari prefetture? Cioè con quale criterio viene inviata? Allora questa scheda di proposta viene inviata a tutti i PTA giusto Monica. Certo certo viene inviata a tutti i PTA perché nel momento in cui a noi ci arriva un'opportunità noi cerchiamo di eh come dire di di divulgarla tutta la rete dei PTA che eh che afferiscono eh al nostro progetto. Ora è chiaro che se c'è uno specifico territoriale eh probabilmente mi viene in mente Ostia insomma oppure luoghi particolari circoscritti eh è chiaro che poi eh magari un'attenzione maggiore sarà verso la territorialità che è uno dei dei temi a noi più cari. Però in generale questa la la scheda proposta è lo strumento attraverso il quale noi inviamo ai PTA l'opportunità che si apre. Ok? E voi ci rispondete con la scheda candidatura. Questo è il processo. Ok. Posso chiedere? Ah certo sì. Lorenzo. Eh allora io voglio fare una piccola nota eh entro sette giorni per noi sette giorni secondo me è troppo poco. Eh almeno dieci giorni dovrebbero essere perché contattare, contattare la persona, chiedere l'appuntamento e sette giorni sono un po' stretti. Per la mia esperienza eh. Però il contatto cioè il l'invio della candidatura è l'inizio di un altro percorso Lorenzo. E certo. Capito? Perché poi si inizierà. Per noi dobbiamo avere sempre l'avallo della persona che stiamo assistendo. No 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 ma questo è chiaro. Noi dobbiamo mettere una perché alcune eh offerte, alcune proposte, speriamo che ce ne arrivino tante eh però insomma alcune proposte hanno una tempistica stretta. A noi ci è arrivata la richiesta di un operaio per una funzione specifica che aveva una tempistica di quattro cinque giorni. Quindi. Ah ho capito. ho capito. Poi se uno riesce bene se no in linea di massima noi predileggiamo come dire le candidature pensate e lavorate già perché questo aiuta pure noi a fare un servizio migliore no? Però eh possono anche capitare le 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 situazioni che hanno una tempistica stretta. Mi permetto? Posso? Grazie. Posso dire una cosa? Monica? È nata sempre di sette giorni lavorativi no? Cioè sette settimane. Sette giorni. Sette giorni lavorativi si lavora un giorno alla settimana come volontari. Esatto. Ah bene. No 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 no. Posso spiegare una cosa? Non ci provare. Non ci provare assolutamente. Posso spiegare una cosa? Scusate. Scusate un attimo. Facciamo finire a Sonia questa scheda così poi ci scateniamo con le domande prima. No e per far capire bene questo passaggio perché non credo che l'abbiano capito con le domande che le hanno fatte. Cioè noi le candidature le dobbiamo mandare al PTA giusto? A prescindere che arrivano le proposte al PTA. Poi il PTA con le candidature che gli sono arrivate e con le proposte che arrivano dal referente alla Caritas valuta le candidature. Francesco perdonami per noi l'interlocutore è il PTA quindi noi inviamo la candidatura a tutti i PTA non a tutti i centri d'ascolto. Io sto dicendo questo appunto ma le nostre candidature dei centri d'ascolto vanno al PTA. E' certo. E' il PTA poi che accoppia la candidatura alla proposta. Certo. E' il livello intermedio no? E' il livello intermedio. Poi a noi ci contattano e chiamiamo la persona e la facciamo mettere in contatto. Ok. Ok. Allora. Ecco e qui passiamo appunto a come contattare i referenti perché appunto il passaggio c'è l'iter e quello che è il CDA o il servizio appunto si mette in contatto e invia la candidatura al PTA e il PTA si mette in contatto con il referente e il referente di conseguenza una volta raccolte le candidature poi le presenterà l'equipe di progetto quando ci incontriamo noi una volta a settimana così valutiamo un po' le candidature che abbiamo ricevuto per verificare quale misura attivare. Quindi cosa si fa per di percorre l'iter? Preparare il fascicolo candidatura quindi compilare la scheda candidatura che abbiamo appena visto allegare il curriculum vite compilare il SIS e fare volendo o anche eh redigere la la relazione appunto per avere un'idea generale sulla persona e caricare i documenti sul SIS anche questo per noi è importante perché nel caso di attivazione di un tirocinio per esempio un corso di formazione possiamo scaricare direttamente lì carta di identità codice fiscale o permesso di soggiorno e poi eh magari anche allegare il bilancio delle competenze che come ha detto Monica questo lo vedremo più tardi con con Bruno una volta preparato questo fascicolo di eh candidatura contattiamo il referente il referente si può contattare vabbè o anche se avete i recapiti insomma telefonici ora vediamo anche nel più nel dettaglio chi sono i referenti e a quale settore appartengono e eh eh comunque le candidature bisogna inviarle via mail a questo indirizzo equipo officinacaritas pioccelagmail eh punto com tutta questa quindi la scheda candidatura la inviamo via mail e l'oggetto della mail anche per semplificare un po' diciamo il lavoro anche ai referenti perché tutti loro gestiscono questa mail se vedono nell'oggetto nome e cognome del candidato più il nome del referente è più facile smistarsi insomma tra loro eh le mail allora eh adesso vediamo queste qui eh questa è una lista che comunque sarà sempre in continuo aggiornamento però sono le adesioni esplicite di prefettura e vediamo appunto parliamo sempre di referenti adesso diamo un nome a questi referenti che sono allora per il settore ovest abbiamo Anna Stea quindi in particolare eh l'area minori Marco Mascagni è il referente sia dell'area ovest sia centro quindi area IDS poi abbiamo Antonella Cossu anche lei settore ovest con aiuto alla persona poi Mario Conclave eh settore sud area ascolto accoglienza CDA Ostia Franco Lotito per noi il nord area ascolto accoglienza CDA italiani e Vincenzo Frusciante settore est area immigrati questo poi ovviamente come abbiamo fatto anche per l'altra formazione eh vi invieremo comunque le slide dove avrete modo di vedere con più calma i nomi e cognomi dei referenti i settori e tutto quanto con anche l'indirizzo email eh e tutte le informazioni insomma che vi servono niente quindi questa è la come mai non c'è la prefettura ventottesima allora il settore sud io vi stavo appena dicendo non scatenatevi stavo pronta nel senso che questo è per farvi capire perché noi insistiamo tanto sulla richiesta di scrivere la prefettura e tutto quanto questa è una lista non completa non aggiornata in base informazioni che noi abbiamo arriveremo poi alla lista completa e aggiornata come vedi Roberto eh anziché esserci eh un solo eh eh PTA per prefettura spesso raddoppiano insomma c'è ancora un quadro un pochino da costruire noi auspichiamo e siamo fiduciosissime che ciò accadrà che al termine del prossimo incontro noi avremmo chiari chi sono i nostri referenti ok rispetto alla prefettura e tutto quanto quindi sicuramente può esserci stata qualche dimenticanza noi ci premeva a farvi vedere i nomi dei referenti che si se si palesassero mi farebbe anche piacere i miei colleghi dell'equipo di progetto che adesso sono nascosti però sono nascosta Antonella Cosso. Ecco Antonella. Infatti eh. Dovremmo anche conoscere. Franco Lotito. Mostratevi in tutta la vostra. No dice prefetture vuole i settori. Settore. Settore Norda. Franco Lotito Settore Norda. Do stai? Eh eh ecco qua. Devi cercarlo tu eh. No lo devi cercare non si sta nascondendo devi far scorrere le foto. Però potevamo immaginarla come attività. Allora. Ma c'è il video occupato dalla vostra slide quindi ne vediamo uno per volta. Eh vabbè si possono comunque questi sono i nomi allora Anna Marco e Antonella per ora lavorano sul settore ovest e Marco Mascagni che c'è da qualche parte non so se c'è ma comunque ci sono ci sono. Ok. Ah 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 lavorerà insieme a noi a me a Sonia anche sul settore centro. Franco si occuperà di Nord Mario si occuperà di Sud e Vincenzo di Est. Allo stato attuale questa è come dire la ehm divisione territoriale più precisa che siamo in grado di dare. Dipenderà da voi cari amici darci indicazioni più più puntuali rispetto al PTA e eh rispetto a quali e quanti PTA ehm si sono attivati. Secondo come dire le indicazioni di cui ha parlato Giuliana e di cui noi eh come dire vi faremo una capa tanta nel corso di tutti i nostri incontri. Posso fare scusami Monica un secondo un'integrazione rispetto alla questione PTA e prefettura? Solo un secondo ti rubo. Eh come vedete eh nelle nelle indicazioni nelle slide sono stati indicati i nomi delle parrocchie in questo momento. Questa è la vecchia nomenclatura del PTA semplicemente per identificare quelli che avevano dato una disponibilità. L'indicazione che i referenti di prefettura hanno per la costruzione del PTA e per questo anche di officine era che non necessariamente le persone dovevano prevenire da una sola parrocchia ma è un gruppo di lavoro che si sta formando. Quindi c'è scritto copertino nella prefettura ventiquattro ma non è detto che siano solo componenti della prefettura di quella parrocchia ma saranno quelli che entreranno a far parte dell'equipe di prefettura così come dicevamo prima. Quindi non legatevi al nome della parrocchia o a quello che c'è scritto. Per qualunque dubbio avete vi richiamo e vi ricordo di parlare con il vostro referente di prefettura e insieme a lui dovete definire qual è il PTA e come si chiamerà tra virgolette. Ok? Mi raccomando che se no si crea confusione. Sì sì no ringrazio Giuliana per questo per questo che vi dicevo spero che alla fine del prossimo incontro noi avremo una un'indicazione un pochino più chiara no? Quelle che noi abbiamo messo qui sono le adesioni esplicite cioè la parrocchia tramite l'incaricato o in autonomia ci ha detto voglio aderire al progetto. Di questo poi questa lista andrà lavorata integrata e sistemata. Ok? Quindi per questo noi insistiamo tanto nel farci dire eh la prefettura di appartenenza perché così magari la prossima volta noi avremo come dire un'indicazione ancora più puntuale e poi i nostri mettiamoci l'orario vicino. Sì i nostri incaricati di prefettura poi insieme a noi insieme a comunità e territorio lavoreranno sull'unificazione del gruppo ecco più o meno questa è l'idea. Infatti immaginavo che vi sareste scatenati su questo. E vedo due partecipanti che hanno alzato la mano. Intanto a Maria Cristina poveretta che sta lì da un'ora e mezza. No volevo volevo tornare un attimo solamente sulla scheda di proposta dove forse sarebbe utile aggiungere il luogo di lavoro o di corso insomma la località dove si svolgerà poi questa attività dei corso tirocinio o lavoro. Ah sì sì lo indicheremo nella prima parte della scheda dove c'è scritto sede azienda. Quella si riferisce quindi alla sede dove si svolgerà il lavoro. Esattamente sì. Grazie. Chi altro? Io eh Patrick. Sì no io volevo chiedere mh il ruolo del CDA invece rispetto al PTA nel senso che ho capito bene le candidature vanno compilate dal PTA ma noi qual è la relazione che abbiamo con il PTA nel senso le persone fanno i colloqui da noi e quindi noi che cosa mandiamo al al PTA per poi lui compilare le schede eccetera eccetera gliele mandiamo sempre o periodicamente cioè mh non mi è chiara quindi questo movimento CDA PTA. Allora non ci sono automatismi ok non ci sono automatismi nel senso che che tipo di che cosa gli mandiamo noi delle schede o allora aspetta fanno riferimento a SIS cosa allora nella misura in cui tu incontri una persona come CDA e gli fai una scuola le cose che voi fate come centro d'ascolto no ok nel momento in cui all'interno della progettualità del centro d'ascolto si comincia a delineare il problema dell'inclusione sociolavorativa il passaggio è contattare il PTA ok dicendo ah ho incontrato Monica secondo me sarebbe una brava cuoca e poi si potrebbe fare questa cosa quindi il lavoro che inizia è un po il lavoro che iniziava con Gesù Divin lavoratore no è chiaro che il centro d'ascolto ha la relazione ma questa non è una regola assoluta perché molti PTA coincidono coi CDA insomma è difficile poi no mantenere una eh come dire una divisione così netta in linea di massima il centro d'ascolto ritiene che quella persona possa essere inviata come candidatura contatta il PTA e insieme redigono la candidatura con tutta questa serie di documentazioni no che tu hai visto che poi sono anche abbastanza banali a quel punto è il PTA eh si mette in contatto con referente dell'equip e si e si fa il solito iter a noi serve il livello intermedio perché altrimenti non siamo in grado di garantire una come dire una puntualità e un'attenzione eh in tempi eh ragionevolmente brevi rispetto alle candidature non possiamo riferirci a tutti i centri d'ascolto non è proprio possibile servono i livelli intermedi capito? Sì sì no ma è chiaro proprio per questo mi sembrava che quelle fasi diciamo di colloquio curriculum eccetera fossero più di competenza del CDA che non del PTA cioè la compilazione la prima quando hai mandato le prime slide no c'era la prima fase adesso certo certo sì 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 quindi tutte queste diciamo la prima fase ecco se la potevate rimandare no ma è chiaro che questa prima fase conoscenza della persona supportarla eccetera 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 eh come come se se la fa il CDA eh poi è chiaro che eh la scheda al PTA una candidatura già lavorata certo che è questo che poi dipende ripeto dipende poi da eh sai che ogni situazione è a sé no? Certo. Quindi è chiaro che il pallino ce l'ha in mano chi conosce la persona eh eh questa è la regola di buonsenso no? Quindi tu conosci la persona e quindi inizia a venirti un'idea rispetto a quello che si può fare poi chi si raffronterà con noi sarà il il livello intermedio ok? Questa è in linea di massima poi adesso vediamo insomma come come si svilupperà però esatto vabbè diciamo che questa prima fase la potrà fare il CDA poi in relazione su completare magari la la seconda operazione della compilatore compilazione delle schede con il PTA chiaramente perché lui non conosce la persona. Certo. Vabbè. Monica Monica sono Pino posso una piccola precisazione? Sì vai. Sempre nell'ambito di questo discorso del CDA eh prima si parlava eh della scheda SIS no? Della necessità di aggiornare la scheda SIS. Ora questa operazione eh per quanto mi risulta non può essere fatta se non che dall'operatore del CDA che è abitato a inserire a modificare la scheda in questione. Quindi se il referente del PTA se il PTA deve intervenire a aggiornare la scheda SIS eh deve essere deve avere come dire la eh l'autorizzazione per accedere alla scheda del del CDA X Y. Certo certo. Ok. D'accordo. Ok. Scusami sono Alessandro. Tu vedi il nome Tiziana perché sono più vicino di mia di mia moglie. Eh tu fai sempre sto giochetto. Eh. Sì. Eh ascoltami ma le schede eh proposta quelle che preparate voi inviate al PTA le metterete anche sul sul sito della Caritas per esempio cioè le metterete in maniera che le possiamo almeno consultare e quindi anticipare un po' i lavori? Beh non non possiamo pubblicarle come noi le ve le manderemo proprio cioè le manderemo ai PTA. Ok quindi bisogna sempre per forza passare per il PTA insomma tutte le settimane anche per sapere quello che c'è volendo. Non c'è modo di averlo anche in un'area riservata o cose simili. L'idea per noi il nostro referente rimane il PTA. Capito? Per noi è veramente l'unico modo in cui cercheremo di garantire una tempistica. Altrimenti non non diventiamo tutti matti. Insomma è difficile. Sì 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 no non volevo non volevo scavalcarlo. Era solo per eh per avere una visibilità prima e quindi di preparare prima il lavoro perché entro i sette giorni insomma. Mi sta venendo l'ansia poveretti. In qualche modo. Mi sta venendo l'ansia. Sì. Renderle visibili in qualche modo consentirebbe a CDA di rendersi conto di quali sono le proposte che poi naturalmente devono sempre passare tramite il PTA. Ma chi è che sta parlando adesso scusate? Ah sei tu? Sono io. Ah Cristina. Non so se mi sentite. Eh cioè quello che dice Alessandro ha un senso nel senso perché comunque che il CDA possa vedere in qualche diciamo posto fisico eh o virtuale le proposte consente di eh farsi un'idea di quali candidature poter proporre e poi far passare comunque le candidature tramite il PTA. Però usare un'area comune in cui renderle visibili eh diciamo eviterebbe un passaggio e anche una lentezza perché se l'operatore del PDA per qualsivoglia motivo quella settimana non fa in tempo a girare tutte le proposte sicuramente qualcosa salta. Sì indubbiamente questa è è è è un tema Cristina. Io sono d'accordo con te. Il problema è che noi stiamo lavorando affinché eh all'interno della prefettura si crei una collaborazione fattiva e anche in tempistiche eh eh accettabili. È un processo quindi eh ci saranno tre mila eccezioni uno cercherà insomma di di far capire ma se noi mandiamo le candidature a tutti i CDA poi anche gli invi che ci arrivano non arrivano attraverso il PTA. In questa fase noi purtroppo dobbiamo essere un pochetto fermi su questo. Studieremo insieme a Sonia delle modalità magari per agevolare come dire una comunicazione più fluida possibile. Su questo io sono assolutamente d'accordo con voi però eh conoscendo quanti sono i CDA e conoscendo eh quanti sono molto attivi molto dinamici per noi diventerebbe poi un pochino complesso. Per noi il riferimento è il PTA che fa parte dell'equip di prefettura. Ok? Marcello. Basterebbe che il PTA. Aspetta aspetta ma Patria fammi sentire un attimo Marcello. Io una cosa secondo me manca il referente cioè il coordinatore del CDA. La cosa che manca è la parrocchia di come prefettura non ha a sua volta la eh conoscenza dei vari CDA e dei vari coordinatori. Manca in realtà questa questa cosa. Perché a quel punto quando c'è una scheda che mi dice che nelle mia prefettura io ho i nomi di tutti i coordinatori con le vari email. Il PTA a quel punto invece con i vari coordinatori e invierà l'email che voi avete mandato al al PTA. Per me questo è il bisogna fare questo lavoro che abbiamo tutti eh cioè non ci siamo riusciti ad avere i nomi di tutti eh quindi questo va sollecitata questa cosa. Sì. Io eh aggiungerei una piccola postilla intanto che eh magari poi ci teniamo le le altre domande per 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 la fine dell'incontro perché altrimenti poi togliamo tempo ai contenuti che mi interessava che voi comunque eh seguiste. Poi signori siamo una comunità adulta cioè quello come i territori si organizzano all'interno delle prefetture attiene a eh la eh capacità la volontà e la fiducia che noi riponiamo nelle persone che si mettono a lavoro insieme. Non possiamo stare dentro queste dinamiche queste organizzazioni. Noi possiamo fare in modo di farvi avere nei tempi che le abbiamo dato le informazioni. Noi questo lo possiamo garantire e possiamo garantirvi che entro un tempo consono noi siamo in grado di lavorare eh come dire le candidature che 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 ci arriveranno. Questo lo vedremo la prossima volta che non vuol dire che troveremo lavoro eh non è che noi risolviamo il problema del lavoro su Roma. Però voglio dire noi cercheremo di fare degli interventi di senso eh strutturati cercando di offrire opportunità. Come si organizzano le le prefetture per il passaggio delle informazioni e per questo questo attiene alla libertà dei figli di Dio nei loro territori e quindi eh non sta a me dire a voi ehm come organizzarvi rispetto a questa cosa col gruppo Whatsapp piuttosto che con la mail. Marcello giustamente dice basta avere la media dei coordinatori. Ogni prefettura è un mondo a sé. Io non posso entrare non mi sembra nemmeno corretto nemmeno giusto no? Ognuno di noi sa come funzionano le cose a casa propria e quindi troverà il modo più fluido possibile per far funzionare questa cosa. L'unica cosa che noi possiamo dire in questa fase è che per ora il nostro riferimento non può che essere un livello intermedio. Quindi poi starà a questo livello intermedio nel gruppo nella persona dell'incaricato nel far avere far passare il più possibile le le informazioni perché non possiamo eh poi chiaramente noi abbiamo un telefono una mail anzi due mail addirittura più la mia so tre insomma voglio dire ci trovate non è che non ci trovate però io vi inviterei proprio a un'adultità rispetto a questo no? Ognuno ogni territorio si organizza come meglio ritiene ci sono prefetture più piccole le prefetture più grandi questo eh non possiamo noi entrare e dire a a Marcello tu devi mandare già il CDA le informazioni lo sa lui insomma come come lo deve fare perché conosce il suo territorio e e i tipi di rapporti che ecco. Silenzio. Non era a me però spero. C'è un cane. Va bene. Eh ok. Allora eccoci qua vedi la brava Sonia qua ha preparato tutto quanto ci sono tutti i riferimenti quindi poi per qualsiasi chiaramente i miei amici dell'equipe di progetto saranno felici li ho messi tutti qua nella slide finale con tutti i nomi abbiamo eh la diciamo la mail ufficiale e la mail operativa quella in cui eh che eh utilizzeranno Anna, Marco, Antonella, Mario, Franco e Vincenzo e Marco sì eh nel appunto nel nell'operatività di questa cosa. Ripeto eh io rispetto l'autonomia dei territori e delle persone adulte nel senso che poi ogni territorio troverà il modo di far passare le comunicazioni perché poi lì il tema è passare le comunicazioni no? Non è non è tanto i sette giorni della candidatura e niente per ora è tutto. Io tutte le altre domande relative a questa cosa le accantonerei per la parte finale se siete d'accordo perché vorrei dare la parola adesso ai miei due amici che non vedo ma li vedrò ehm noi abbiamo parlato all'inizio e vi ho detto noi parleremo eccoci sì ecco Bruno ehm abbiamo parlato all'inizio e vi ho detto parleremo degli aspetti organizzativi che come temevo ci hanno richiesto un sacco di tempo e poi cominceremo a passare anche un pochettino di metodo e di strumenti quindi che cosa abbiamo fatto? Noi di officina abbiamo chiesto a due amici che ringrazio proprio pubblicamente e ufficialmente che hanno messo a disposizione le loro competenze adesso si presenteranno da soli uno è Bruno Brancati e l'altra è Roberta Nutricato che non vedo ma immagino ci sia. Ci sono ci sono. Ah eccola ecco Roberta e loro eh insieme ehm a noi si sono messi a ragionare eh rispetto a un tipo di formazione che poteva essere proposta a voi PTA in base anche a quello che sono state eh le loro esperienze nella vita precedente mettiamola così no? Nell'altra vita nella vita laterale ehm e al tempo stesso l'esperienza molto interessante che loro hanno fatto all'interno della loro parrocchia proprio in tema lavoro nell'ambito del progetto di Gesù Divin Lavoratore. Eh quindi noi abbiamo chiesto a Bruno e a Roberta insomma di eh mettere a disposizione un po' del loro tempo e un po' del loro sapere rispetto a questo per darci qualche strumento e qualche informazione. Lo faranno ora e lo faranno anche eh nel prossimo incontro che eh che faremo. Ehm permettetemi solo una piccola una piccola postilla a questo. Una delle delle esperienze belle di questa di questo progetto officina è proprio questo no? Io mi sono accorta affacciandomi a questo nuovo progetto di della ricchezza e della disponibilità e della voglia di fare insieme cose da parte di tante persone tra cui Bruno tra cui Roberta ma Cristina e tante altre persone che si sono avvicinate a noi e hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro esperienza rispetto a un tema che ehm necessitiamo tutti eh come dire almeno io insomma necessitiamo di approfondire per capire per snocciolare bene e approfitto dato che ci sono eh anche per ringraziare ora poi non lo farò i miei eh magici amici dell'equipe di progetto che con tanta pazienza però non c'è l'immagine non c'è l'immagine? La tua? Eh che con tanta pazienza si sono messi a disposizione di questo progetto eh perché noi adesso siamo in fase di lancio però vi assicuro che tutta la costruzione con tutti i vari come dire colpi di scena che ci sono stati non è stata semplicissima per tutti noi quindi ringrazio tutti e lascio la parola quindi a Bruno e a Roberta per per l'altra parte dell'incontro. Allora grazie grazie Monica grazie a tutti eh io vorrei eh fare vedere vediamo se ci riesco allora eh vedete nulla in questo momento? No 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 allora vediamo un pochettino se io faccio condividi schermo e premo questo vedete qualcosa ora? Sta avviando sì sì ok ok perfetto allora dunque sì io e Roberta adesso vi parleremo di questi aspetti eh una premessa importante e fondamentale eh io sono stato due anni fa coinvolto come referente del PTA della parrocchia di San Leonardo Morialdo eh anche diciamo all'ultimo momento perché un collega del CDA che era stato inizialmente eh diciamo richiesto e nominato aveva avuto un problema mi chiese la possibilità di sostituirlo cosa che ho fatto volentieri eh l'esperienza è stata molto utile e durante l'esperienza ho avuto modo anche di capire che forse si poteva fare qualcosa in maniera un po' più strutturata perché il mio lavoro io ho fatto per tanti anni il direttore del personale e da cinque anni a questa parte faccio l'head hunter e da hunter vuol dire cacciatore di teste banalizzo cerco persone cerco persone per conto di aziende nell'esperienza di referente PTA ho poi conosciuto un membro del CDA che è Roberta a cui poi ovviamente lascio la parola per autopresentarsi che nemmeno a farla apposta c'aveva mi pare otto nove anni di esperienza all'interno di una delle più importanti multinazionali al mondo nel settore della ricerca di persone che è la manpower per cui ci siamo trovati in maniera del tutto casuale e un'opportunità diciamo come posso dire si sono allineati i pianeti nella nostra parrocchia perché comunque due persone che avevano un certo tipo di background ed esperienza da potere mettere a frutto è stata una casualità molto fortunata. quindi che cosa abbiamo deciso di fare abbiamo deciso di peraltro recuperando un progetto che noi comunque in PTA San Leonardo avevamo già realizzato con una dozzina di persone ci siamo messi appunto a disposizione del gruppo di progetto e abbiamo capito che bisognava in qualche modo strutturare dei elementi che potessero dare a chi opera in questa attività qualcosa di concreto che sia praticabile e sia semplice. Questo perché nessuno di noi ha la pretesa di entrare nel merito in maniera massiccia e pesante di situazioni di orientamento e di ricerca lavoro che prevedebbero delle professionalità molto articolate. Sta di fatto che questa breve presentazione che adesso vi farò vedere e adesso lascerò un attimo la parola a Roberta per parlare proprio del tema dell'orientamento su cui tra l'altro è più esperta di me sono sostanzialmente degli stimoli e dei supporti che ci devono servire ad aiutare le persone fragili che si rivolgono a noi sono in cerca di lavoro. Il tutto recuperando le le prime parole che ci disse Don Ben nel primo incontro in cui vi ricorderete lui parlò di evitare la cultura del Bancomat cioè non possiamo pensare che la gente si rivolga a noi e noi siamo il Bancomat cioè noi arrivano mettono un tesserino erogano e noi eroghiamo un servizio. Non funziona così, non è questo l'obiettivo. Il tutto è complesso, lungo, difficile quando si ha a che fare con le persone diventa ancora più complesso, spesso le persone fragili lo sono anche per una loro intrinseca difficoltà e quindi su questo noi dobbiamo essere presenti. Allora che cosa intendiamo per orientamento e divino di livello? Lascio la parola a Roberta che poi me la ridà per la presentazione. Sì, grazie Bruno. Io sarò molto rapida nel senso che Bruno ha anticipato un po' quello che è stato il mio percorso e in questo momento prima di diciamo di iniziare mi veniva in mente quella quella frase che dice mai porre limiti alla provvidenza, no? Nel senso che penso di essere l'esempio lampante al momento per un motivo molto semplice perché verso dicembre ho deciso di interrompere un po' il mio percorso che è durato per diversi anni nell'ambito proprio della ricerca, della selezione del personale e dell'orientamento per intraprendere nuove strade e proprio in quel momento nemmeno un mese dopo tramite Bruno appunto e poi Monica mi sono ritrovata a parlare di questi temi in tutt'altro ambito e questa cosa mi fa sicuramente piacere. Sicuramente un'immagine che a me viene in mente è sempre venuta in mente quando quando ho pensato all'orientamento e dell'immagine del navigatore cioè nel momento in cui noi utilizziamo banalmente Google Maps dobbiamo sapere due cose la prima da dove stiamo partendo la seconda dove dobbiamo andare. Nel mezzo Google Maps nel momento in cui lo impostiamo ci mette tutta una serie di strade di alternative percorribili ma dobbiamo essere bravi a saper porre bene le basi di queste due cose cioè appunto da una parte dove da dove stiamo partendo e dall'altra dove dobbiamo arrivare. L'incontro di oggi e questi strumenti che insieme a Bruno abbiamo proprio cercato di come dire di di mettere a vostra disposizione hanno l'obiettivo di rendere chiaro appunto come fare orientamento di primo livello in modo mirato cioè capire da dove stiamo partendo nel momento in cui incontriamo la persona nei nostri colloqui cercando di capire qual è il suo percorso cercando di capire che cosa ha fatto e quindi quali sono eh come dire le competenze i punti di forza le sue tipiche caratteristiche sulle quali fare riferimento per poterla orientare in modo mirato perché comunque come dire dobbiamo sapere anche ottimizzare il nostro tempo no? Prima si parlava di tempi di dell'importanza anche del tempo che noi dedichiamo ma anche che la persona di fronte a noi ci sta dedicando in quel momento quindi sapere ottimizzare il tempo significa riuscire ad avere chiare queste secondo me queste due cose quindi mi auguro e ti passo subito la parola a Bruno che gli strumenti che appunto vedremo insieme possano essere utili a chiarirci a chiarirci il percorso. Grazie Robby. Allora sì eh ritorniamo al tema della persona fragile. Chi ha fatto esperienza di PTA durante il percorso di Giosun Di Villabonatore si è accorto che spesso e volentieri le persone che venivano eh erano in difficoltà sul lavoro e spesso eh erano in grossa difficoltà non soltanto perché il lavoro non c'era o lo avevano perso oppure erano andati eh così erano stati costretti a lavorare in nero ed altro ma perché eh non avevano gli strumenti per organizzarsi e cercarsi un lavoro. Teniamo conto di una cosa. Cercarsi un lavoro è un lavoro. questo è fondamentale. Le persone che si rivolgono a noi alle persone che si rivolgono a noi noi dovremmo fare chiaramente comprendere questo aspetto. Cercarsi un lavoro è il tuo lavoro delle prossime settimane. Su questo ti devi impegnare. Questo ripeto per uscire dalla logica del banco Matt cioè noi dobbiamo entrare in un percorso di affiancamento prima di ascolto e poi di affiancamento che ci consenta di dare nei limiti del possibile sapendo che nessuno di noi è mandra che ha la bacchetta magica e trova il lavoro. Però il nostro operato potrà sicuramente dando indicazioni corrette con strumenti adeguati e sistematici e metodici dare dei suggerimenti che le persone potranno utilizzare. A chi si rivolge quindi al PTA o al CDA va fatto capire che ognuno sa fare qualcosa e che deve prenderne consapevolezza prima di mettersi alla ricerca del lavoro. Questo perché tante volte le persone quando gli si è chiesto ma tu cosa vorresti fare? Ah io voglio fare qualsiasi cosa sono disposto a fare tutto. Ecco per quanto possa sembrare una dichiarazione positiva che sia una dichiarazione assolutamente sbagliata perché nessuno è in condizione di fare tutto e tutti sono in condizione di fare qualcosa. Quello che dobbiamo capire è cosa ogni persona può fare. Allora gli accordi che sono stati presi come ricordate nella slide che ha presentato prima Sonia sono sostanzialmente basati su tre fasi. Nella prima fase lo sforzo che va fatto è quello di conoscerla la persona. Quindi che l'abbia incrociata al CDA come quasi sempre accade va benissimo. L'importante è poi aiutarla a sviluppare altro e adesso vedremo cosa significa supportare la persona nel fare un bilancio di competenze e cosa vuol dire fare un curriculum vitae. La seconda fase che indicativamente si può così fare coincidere con dei colloqui ma insomma se ce n'è bisogno anche di più di un colloquio la prima fase ben venga. Cioè l'importante ripeto è lavorare bene con la persona non correre. Correre non serve a nulla. La seconda fase comunque prevede l'analisi del bilancio di competenze del curriculum vitae, una individuazione di possibili aree di intervento e il suggerimento di azioni adeguate. Per finire la terza fase è quello dell'invio a Caritas a cui fa poi di solito seguito una proposta, un'indicazione da parte di Caritas. E andiamo quindi a vedere cosa si può fare nella prima fase. Quindi la conoscenza della persona e il supporto nel realizzare queste due attività. Il BC bilancio di competenze è il CV, il curriculum. Peraltro io dico se necessario perché ci possono essere tante persone che magari già lo sanno fare o l'hanno fatto. Vediamo innanzitutto cosa si intende per bilancio di competenze. Il bilancio di competenze è un documento in cui si fa il bilancio di cosa abbiamo imparato a fare e di cosa sappiamo fare. Ecco perché non è giusto pensare e non so fare nulla. Non è vero perché anche una persona che tutta la vita ha lavato le scale e quindi ha fatto un lavoro tra i più umili che ci siano, sarà un professionista se lo so fare bene. Quindi dovremmo orientarlo in quella direzione. Non va nemmeno bene dire mi sta bene fare tutto perché ribadisco non puoi mettere ogni persona a fare qualsiasi mansione, non sta né in cielo né in terra. Quindi questo è fondamentale che noi in primis lo capiamo, lo trasmettiamo e lo facciamo capire alle persone. Cosa si intende per il bilancio di competenze? È un'occasione, è un momento di riepilogo, di analisi per ripercorrere e poi naturalmente la struttura centrale vi manderà le slide. È un'occasione per ripercorrere e valorizzare le esperienze professionali e di vita, chiarire ciò che conosciamo e sappiamo fare, quindi le cosiddette competenze maturate, che possono essere le più varie perché chiaramente se a me dite di mettermi a fare il muratore, io con la calce non so proprio metterci le mani, non lo so fare. Dice ma sei laureato? Che vuol dire? Ognuno, i latini parlavano di un equi quesum, ognuno il suo e non era sbagliato, cioè ognuno dovrebbe fare quello che sa fare. E chiarire dove, in quale lavoro è possibile impiegare le competenze maturate e definire un programma di inserimento e eventuale reinserimento lavorativo. Che cosa prevede il bilancio? Prevede una storia personale, formativa e professionale, una ricostruzione di eventuali competenze tecniche acquisite tramite le diverse esperienze, il riconoscimento di determinate abilità sociali che si sono mandorate nel tempo, un dettaglio dei propri punti di forza, un'indicazione di eventuali interessi professionali, cosa mi piacerebbe fare, cosa mi piace fare, dove riesco meglio, cosa so fare, anche i valori che contraddistinguono la persona. Io lo faccio sempre questo esempio, dico se sono pacifista, in un'azienda che costruisce mine anti uomo non ci voglio lavorare, non ci vado a lavorare e se mi propongono ad andarci a lavorare non ci vado. Poi certo mi si potrà opporre ma il lavoro è poco e in qualche modo bisogna portare il pane a casa. Non entro nel merito, sono scelte morali e etiche su cui non entro nel merito, però ci possono essere persone che possono dire io in determinati contesti organizzativi non ci voglio lavorare perché non ne condivido l'impostazione ed è assolutamente rispettoso come punto di vista che dobbiamo tenere in considerazione. E poi infine un eventuale progetto di sviluppo e un conseguente piano d'azione. Che cosa significa operativamente? Allora significa che noi vi manderemo un modulo, è un banalissimo modulo Excel, semplice semplice, ora lo andiamo a vedere, che vi consigliamo di stampare, di tenere a disposizione per questi incontri e di consegnare alle persone dicendo loro di portarselo a casa e riconsegnarla a successivo incontro, stando pronti naturalmente a supportare le persone. Perché non farlo in presenza? Perché le persone devono rendersi consapevoli, devono avere il tempo, maturare proprio questa disponibilità a ragionare in modo poi da costringersi a scrivere su un pezzo di carta alcune informazioni. E vediamolo questo pezzo di carta. Allora, il modulo è questo. La prima parte, ci sono informazioni banalissime, anagrafiche, quindi cognome, nome, età e data in cui incontrate. Non si può centrare meglio questo modo? No, 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 di più di così non si può fare. Comunque ti ripeto, vi sarà mandato, quindi poi lo vedrete nel dettaglio con calma. Come scusa? Allora è inutile parlarne nel dettaglio, cioè o lo vediamo e ne vediamo, se no lo vediamo. Chi è che parla? Chi è che non lo vede? Perché io lo vedo perfettamente. Si riesce a vedere benissimo. Chi è che non lo vede? Va bene, va bene. Noi cercheremo poi, intanto ve lo invieremo, però è importante seguire questo ragionamento adesso al di là del modulo. Anche perché comunque si vede, forse avrai un problema di collegamento perché gli altri lo vedono. Comunque in ogni caso, il modulo è basato su delle aree, guardiamo a destra, questi piccoli box grigi, chi sono, quindi cognome, nome, età, banalissimo, cosa so, quindi che titoli ho maturato, può essere anche la quinta elementare, può essere nessun titolo, va bene tutto, ma noi potremmo anche incontrare persone che magari erano ex dirigenti d'azienda che hanno perso il lavoro. Nell'esperienza di Gesù Di Mil lavoratore, personalmente abbiamo incontrato di tutto, di tutto. Quindi ci può essere una persona assolutamente, diciamo, di un profilo molto umile e ci possono essere persone molto, come si dice in termini tecnico, schillate, cioè con tante competenze e anche titoli di studio. E quindi qua lo scriviamo, va bene. Poi cosa so fare? Cosa so fare? È fondamentale. Che tipo di esperienze ho svolto sul lavoro? Quindi le abilità che ho sviluppato tramite le esperienze di lavoro, quindi che lavori ho svolto. Qua ci sono indicati tre spazi, ma nessuno ci vieta naturalmente di fare una doppia copia, magari darne due di modulo alle persone. Il datore di lavoro, la durata dell'impiego, se uno se lo ricorda, poi è chiaro, se non si ricorda va un po' a memoria. Ed è importante capire perché è terminato, perché talvolta questo ci aiuta anche successivamente a orientare meglio la ricerca. A volte purtroppo le esperienze terminano perché o sono a tempo, e vabbè, quello è inevitabile. O perché magari le persone purtroppo hanno avuto la sfortuna di incocciare con datori di lavoro poco seri, quindi che non pagavano regolarmente, che non versavano contributi o altre cose ancora più tristi. Pensiamo a qualche donna a volte che ha subito anche mobbing o addirittura peggio. Ahimè queste cose accadono. Altro aspetto importante, questo piccolo box, le abilità. Cioè cosa so fare grazie a questi lavori? Eh so dipingere le pareti, so fare tracce elettriche, eh so costruire un muro, va bene tutto. So fare il pane, so fare la pizza, so tagliare i capelli, va bene tutto. L'importante è meditare su noi stessi e indicare cosa sappiamo fare. Io per esempio sono un organizzatore. Io ho fatto in vita mia tantissimi lavori, sono stato un dirigente importante di aziende, ehm ho gestito a società, ho fatto l'imprenditore, ecco io sono un organizzatore. Questa è una mia competenza. Se mi mettete in mano un cacciavite e un martello, eh meglio, ecco, chiedetegli alla mia moglie che si mette a piangere ogni volta. Eh che cosa vorrei fare? Ecco, cosa mi piacerebbe fare? Allora, è attività ipotizzabili in base a quello che io ho maturato. Dei progetti di lavoro, anche non collegate le esperienze. Magari nella pandemia sono stato fermo se i mesi del lockdown e ho imparato a fare il pane e la pizza, dico banalmente, mi piacerebbe imparare a fare il panificatore e perché no? Esistono un sacco di corsi al riguardo. Eh nuove competenze che vorrei acquisire, disponibilità territoriali perché appunto chi abita alloggiata, magari chi sta alloggiata è difficile che venga da noi per motivi diciamo economici, però ecco chi abita magari a quelle zone a andare a lavorare a ostia ogni mattina forse potrebbe essere un problema, quindi ci potrebbe anche essere una disponibilità territoriale e questo ripeto è importante perché quando in prima battuta le persone ti dicono ah io faccio tutto, sono disposta a tutto, poi quando gli proponi le cose ti cominciano ad alzare le mani. Eh ma io amma questo, amma i suoi figli, all'orario eccetera. Cose vissute continuamente al lavoro. Poi infine come sono quindi punti di forza e aree di miglioramento, sarebbe aree di debolezza ma è brutto, gli anglosassoni che sono più furbi di noi in questo parlano di aree di miglioramento. Questo prevede è un'introspezione importante da parte delle persone che fanno fatica, tutti facciamo fatica a individuare i nostri punti di forza nelle nostre aree di miglioramento, però dobbiamo chiederglielo alle persone di ragionarci e di essere il più possibile obiettivi. E poi infine le esperienze importanti, non necessariamente di lavoro ma anche di vita. Non so, ad esempio ho fatto l'istruttore in palestra e lo facevo gratis perché mi piaceva, oppure allenavo i bambini al catechismo. Perché no? Posso magari fare delle attività a contatto con i bambini e così via o altro ancora. Vado avanti. Altro aspetto indispensabile è il curriculum vite. Ora per fare il curriculum vite molte persone già ce l'hanno, ma anche chi non ce l'avesse non è un'operazione particolarmente complessa perché esistono su internet tanti modelli che si trovano su siti specializzati, noi qua ne suggeriamo uno, ce ne sono altri e adesso ne vedremo un esempio. Sta di fatto che comunque alla persona, ecco perché si parla di fase e non di colloquio, c'è necessità a volte di incontrarsi più volte, bisogna comunque dire di farcela avere uno se già ce l'hanno e poi sulla base di quello che ci hanno dato eventualmente li aiutiamo a svilupparlo meglio. Se invece non ce l'hanno proprio, scegliamo un modello, qua ad esempio facciamo vedere una form tratto da un sito specializzato in cui effettivamente si può aiutare la persona a realizzare un proprio un proprio curriculum. A che serve un CV? Un CV serve appunto innanzitutto a contestualizzare meglio chi sei, quindi servono i dati. Guardate nella mia esperienza io ormai ho superato gli undicimila colloqui di lavoro fatti. Ho assunto in vita mia migliaia di persone, quindi ne ho viste veramente, credetemi, di tutti i colori in ambienti i più vari. A volte capita un curriculum dove non c'è il telefono. Ora, se tu in un curriculum non metti il telefono, il messaggio che stai trasmettendo è fate di tutto ma non mi chiamate. Può sembrare assurdo ma succede, credetemi, succede. Quindi bisogna fare attenzione a queste cose. Indicazione di qual è il percorso formativo, quali sono le esperienze professionali. È chiaro, se io sono sempre stato un tecnico è più probabile che mi possa orientare e possa cercare attività orientate ad aree tecniche, il che non esclude, ripeto, in principio fare anche altro, ma è più probabile che sia quella la mia strada. Che cosa so fare e cosa so essere? Quello ovviamente che ho imparato a fare. Cosa ho fatto? Che ruoli ho svolto? Che mansioni ho svolto? Se sono stato sempre abituato a fare il comandante, cioè quello che gestiva le persone, se all'improvviso mi danno da fare un lavoro operativo, io ovviamente all'inizio dico sì, perché devo lavorare, perché devo portare a casa uno stipendio. Ma in prospettiva, vi assicuro, c'è un problema, perché comunque, e questo è continuo, ripeto, l'esperienza me l'ha insegnato continuamente, comunque poi tu all'inizio sei frustrato, ma stingi i denti, poi nel tempo scoppi. Quindi bisogna fare attenzione anche a questo. I dati, adesso vi ripeto, poi vi manderemo, adesso non entro troppo nel merito perché altrimenti diventa troppo di da scarica. Comunque i dati personali, quelli che sono scontati, come dicevo, le esperienze di solito si preferisce mettere dalla più recente alla meno recente. Se uno ha fatto dodici, quindici, diciotto lavori, cerca di essere un po' più sintetico, insomma, è chiaro, no? Cercare di essere meno debordanti. Considerate che si dice che un buon curriculum non dovrebbe superare le due pagine. Quindi possiamo arrivare a tre se è il curriculum dell'ex ministro Passera, per esempio. L'operaio che scrive un curriculum di cinque pagine deve essere un pochettino aiutato e noi dobbiamo aiutarlo a essere più sintetico. Il percorso formativo, le conoscenze, le lingue, eccetera, eccetera. Aspetto fondamentale, non ve lo scordate mai, il consenso al trattamento dei dati e la firma. Vi sarà mandato anche da parte di Caritas il modulo del cosiddetto GDPR. Una volta si chiamava privacy, oggi si chiama GDPR. Non è affatto banale questo, anzi, perché come ventitresima prefettura abbiamo dovuto gestire il caso drammatico, drammatico, di un parroco ottantenne che è stato citato in giudizio da parte di un sciagurato che è stato evidentemente molto mal consigliato da parte di un avvocatugolo, il quale cosa ha fatto? Ha fatto causa di servizio al parroco per riconoscimento di costituzione di rapporto di lavoro ex-nuc, cioè significa dall'inizio. Perché? Perché il parroco, siccome questo era un poveretto, insomma, aveva perso il lavoro, c'aveva un camper, il parroco gli aveva detto, vabbè, ti ospito all'interno del mio territorio, cioè ti faccio entrare, magari mi dai una mano a sistemare la chiesa, a fare le pulizie e poi comunque mangi con noi, eccetera. Questo all'inizio gli è andato tutto bene. A un certo punto evidentemente, purtroppo stimolato evidentemente da un avvocato che doveva essere anche una persona che aveva qualche criticità nei confronti del mondo ecclesiale, a un certo punto a questo parroco gli è arrivata proprio da parte del tribunale una richiesta appunto di causa di servizio perché questo voleva essere riconosciuto come assunto dall'inizio. Come risolvere situazioni del genere è sempre difficile. Certo è che se però tu hai quantomeno il consenso al trattamento dei dati ed altro, puoi cercare di dimostrare che hai, diciamo, poi come è andata la situazione non lo so, ho perso di vista, mi devo informare. Però comunque ecco, non trattate mai i dati di una persona senza che la persona vi abbia autorizzato a farlo, perché purtroppo esistono anche persone cattive. Ahimè esistono anche persone malfidate, esistono persone mal consigliate e quindi tu stai facendo di tutto, ci stai mettendo il tuo entusiasmo, la tua passione, hai riconosciuto in lui la figura del Cristo sofferente e quello a un certo punto ti dà la sola. Quindi attenzione, facciamolo con la cosela del caso. Quindi consenso. Poi infine una tessera, una fototessera va bene, però professionale, cioè non facciamo le foto con il piercing appiccicato, con la lingua dei fuori, i capelli tini. Vi dico questo perché io ho visto di tutto, di tutto, anche gente che mi ha mandato le foto con le tette di fuori, di tutto. E io non facevo la ricerca delle veline, in quel caso facevo il direttore del personale di una compagnia aerea, quindi non credo. Avete visto mai una hostess col seno nudo? Non mi pare. Ok. Un altro suggerimento, qua ve lo dico, ma insomma questo è un po' più sofisticato, è il cosiddetto curriculum per competenze. Cioè se una persona vuole potrebbe anche, però qua è un livello un po' più sofisticato, poter ragionare su quello che sono le sue aree di competenza principali. Cioè io magari sono un operaio qualificato, che cosa ho fatto in vita mia? Ho fatto manutenzione, ho fatto pittura, ho fatto idraulica, fa legnameria, ho conosciuto le normative di sicurezza sul lavoro, eccetera, eccetera. Perfetto. Come sono? Sono una persona educata, gentile, mi piace far parlare persone, sono educato e quindi comunque le persone hanno buoni rapporti con me, eccetera, eccetera. E che cosa posso fare? Beh, ad esempio lavoro di manutenzione casalinga. Io posso fare muratura, pittura, verniciatura, idraulica, ho lavorato nei cantieri, eccetera, eccetera. Poi magari avevo anche una piccola aziendina, eravamo io e un mio amico, abbiamo aperto un'azienda, mi occupavo degli acquisti e quindi dei pennelli, delle vernici, magari lavoravo con i condomini, eccetera, eccetera, gestivo le fatture, quindi gli acquisti, il pagamento. Può sembrare banale, ma non lo è per niente, perché comunque anche queste dimensioni possono aiutare a capire come meglio orientare una persona. Chiudo il primo passaggio, quindi ho scritto il secondo colloquio, qui in realtà è seconda fase, scusate, mi sono dimenticato di correggere. La seconda fase è quella in cui analizziamo questi strumenti e cerchiamo di capire che tipo di aree di intervento e suggerimenti possiamo dare alle persone. Attenzione, ho indicato realistiche, l'ho messo non a caso in rosso, perché è inutile parlare a una persona molto lontana di possibilità legate ad aree nelle quali non ha alcun tipo di possibilità di lavoro. Dobbiamo essere realistici nel dare orientamento alle persone. E un'altra cosa che abbiamo visto, e qua vi dicevo in parrocchia l'abbiamo realizzato, l'abbiamo fatto, è che tante volte le persone non hanno la più pallida idea di come si cerchi il lavoro. Ora che in Italia ci siano dei canali a volte un po' discutibili è fuori di dubbio, tanto per segliare le raccomandazioni. Va bene, sì, ci stanno, ci stanno pure quelle. Ma un conto è la raccomandazione, cioè io metto a lavorare una persona assolutamente incapace in un'area lavorativa dove perché devo fare un piacere a un qualcuno. Questo lo fanno i politici, ok? Ora noi non siamo politici, noi siamo operatori della carità, se vogliamo, in un certo modo. E allora spiegare alle persone che esistono strumenti che tante volte nemmeno conoscono ma che li possono aiutare, questo fa parte del nostro incarico. Esistono siti, esistono app, esistono i social network, esistono i giornali, esiste il passaparola, le bacheche, le conoscenze, esistono una marea di cose. L'importante è saperlo. E ad esempio la gente tante volte non sa che il cellulare con il quale passiamo tanto tempo, tante volte a giochi chiare, eccetera, eccetera, può essere uno strumento utile perché ci sono tutta una serie di app che basta andare su o l'applicazione di Google o quella di Apple e ci sono una marea di cose. Basta digitare lavoro ed escono fuori una marea. Cerco lavoro, in job jobs, cerca lavoro, poi a volte i nomi si assomigliano molto, next door, glass door, ce ne sono tantissime. L'importante è saperlo, cominciare a consultarle, scaricarsi le app, consultarle e cominciarsi a registrare. Perché registrarsi significa poter in qualche modo intercettare delle ricerche che altrimenti intercetterà qualcun altro. Anche Facebook con i gruppi di quartiere, adesso ne vorrò vedere due esempi, ci può essere molto utile. Ci sono poi le società di somministrazione, poi appunto ripeto, Roberta ci ha lavorato otto anni, quindi vi può dare un suggerimento, ma Deco, Manpower, Obiettivo Lavoro, G Group, Ranset, ce ne sono una marea. E quindi poi siti specializzati. Ecco, vi dicevo Facebook. Ad esempio ci sono, qua abbiamo fatto all'epoca un'analisi di quelli che erano, noi abitiamo come territorio, siamo insomma alla zona Marconi, quindi Ostienze, San Paolo, eccetera, eccetera. Ci sono i gruppi, ad esempio, sei di Tormarancio, sei, sei di Viale Marconi, sei, sei di San Paolo, sei. Basta cercarli su Facebook, uno ci si scrive e tante volte in questi gruppi, dalla indicazione che è scappato il cane della signora Pierina, al fatto che magari il panificio di via Ostienze 155 cerca un panificatore, si trova di tutto, si trova di tutto. Quanti lo sapevano? Non tanti, vi assicuro, non tanti. Eppure anche Facebook aiuta a cercare lavoro. Ci sono i gruppi di tema lavoro su Facebook, guardate i numeri, sono impressionanti, è chiaro, questi sono numeri globali, però il decoro è l'anima del commercio, cerco e offro lavoro a Marconi, cioè SOS lavoro, bisogna, ripeto, in primis, cercarsi un lavoro e il lavoro che le persone devono fare. Lo devono fare in maniera sistematica, organica, metodica, impegnandosi in prima battuta. Se approcciano in questo modo, possono avere opportunità. E poi, infine, colloquio. Colloquio di lavoro, suggerimenti utili. Chiaro, c'è tutto, c'è un film che non finisce mai, basta andare su YouTube e uno scrive colloqui di lavoro, ci sono una marea di video tutorial, quindi se uno è interessato, è incuriosito. Poi, sapete meglio di me, nel PTA si trova dall'ex dirigente all'ex manager, alla casalinga, al pensionato che magari faceva altri lavori, c'è di tutto nel PTA, grazie a Dio. Quindi c'è una ricchezza straordinaria. Però, ecco, se uno vuole un pochettino approfondire, basta andare su YouTube e trova di tutto. Sta di fatto che alcune cose sono ovvie. Cioè, vestirsi in modo adeguato. Se vai a fare un colloquio e ti presenti tutto smandrappato, con la barba lunga, il capello sporco, eccetera, eccetera, beh, insomma, forse non ti stai giocando proprio benissimo le tue carte. Presentarsi puntuali e non accompagnati. Se sei un ragazzo, non ci vai con la mamma e il papà, non ci vai, non ci vai. Io ho visto situazioni, credetemi, ho visto situazioni di gente che addirittura mi sono trovato il padre con la figlia dentro alla saletta e al padre gli ho detto, scusi, lei che ci fa? E questo mi disse, mi ricordo, parliamo del 95, quindi quasi 30 anni fa. Ah, ma io non lo so mica cosa lei fa a mia figlia. E l'ho guardato e ho detto, adesso lei esce, se no io chiamo i carabinieri. Infatti, lei sta scherzando, voglio sperare. Dico, se sua figlia viene assunta a fare l'operaglia in fabbrica, che fa? Viene lei e gli fa la scorta? Quindi attenzione, perché c'è, ripeto, c'è di tutto, c'è di tutto. Informarsi sull'azienda, fare domande, vabbè, questi sono suggerimenti. E poi, infine, non ci scordiamo che ci sono anche le istituzioni. Quindi ci sono, ad esempio, i centri di orientamento al lavoro, che spesso e volentieri hanno opportunità. Basta andarli a consultare i siti, regione, comune, ministeri, eccetera, eccetera. E alcuni è sicuramente complesso, non dico che sia facile, però, per esempio, io a Via dei Licei, che è nella zona dove abito io, c'è il centro di orientamento al lavoro. Uno ci va e si va a informare. Vi dico che, mi ricordo perfettamente, due persone che avevamo incontrato, una l'aveva incontrato il CDA, l'altra l'avevamo incontrato direttamente noi. Beh, insomma, a distanza di mesi, ricontattate, risentite, non c'erano ancora andate. Allora, la domanda che mi faccio è, ma tu cerchi veramente il lavoro, oppure sei il cosiddetto povero di professione, che ti devi lamentare e basta? Perché esistono anche quelli, purtroppo. Quindi, gazzette, eccetera, eccetera. Infine, ultima fase, come ci diceva Sonia prima, si fa il dossier, si invia alla Caritas, quindi i moduli, la scheda, con le info personali, il modulo della GDPR, mi raccomando, e si attende, infine, si attende alla quarta fase, cioè l'indicazione da parte di Caritas delle decisioni prese. Ok, allora, disabilito la presentazione, quindi interrompo la condivisione e torno in visualizzazione normale. Sembra effettivamente tanto, e non vi dico, non lo nego che lo sia, cioè lo è, è tanto, assolutamente tanto. Non si può pretendere che i PTA diventino esperti di selezione e nessuno lo chiede, però quello che si può chiedere è, appunto, di aiutare le persone fragili in un'ottica di ascolto a essere più consapevoli di se stessi. Quello che io ho visto in quest'anno e mezzo di fondo Gesù in Divi Laboratore è che molte volte le persone sono talmente sfiduciate e al tempo stesso anche ignoranti, nel senso etimologico del termine, cioè non conoscono, non sanno, che invece noi, come diceva Don Ben all'inizio, me lo ricorderò sempre perfettamente, il nostro intervento deve essere quello di rendere consapevoli le persone che hanno una marea di diritti che spesso non conoscono. E uno dei diritti è il diritto alla conoscenza. Sapere, ad esempio, ripeto, che ci sono delle app, no, banalmente, spesso e volentieri la gente ce l'ha per giocare, per telefonare, no, Whatsapp, giocare, altri termini anche più ludici. E invece può servire anche a questo. Prima Roberta parlava di Google Maps. Esistono, basta andare su Android, basta andare su Apple Store, ripeto, ci sono una marea di applicazioni sulla web. Però lo devi sapere, lo devi fare e lo devi seguire con regolarità. Questo perché? Perché se poi appunto il panificio Rosetta ha messo un annuncio su Glassdoor, Nextdoor, e a me arrivano, ripeto, perché ci sono iscritto, se io, uno che ha interesse di lavorare, è iscritto, mi arriva la informazione, io alzo il telefono e chiamo. E se arrivo per primo, può darsi che mi assumono. Certo, se lo faccio, quando me gira, se me lo ricordo, non ci credo, e vabbè, ok, allora lascia perdere e non venire al PTA. Ho finito. Allora, intanto ringraziamo Bruno per questa panoramica, Roberta, perché veramente ci ha dato una grossa mano e un grosso inquadramento di contesto, veramente molto interessante, molto interessante. Complimenti Bruno, grazie a voi. Grazie, grazie. Ok, allora, due piccole considerazioni di contesto e di cornice. Nei nostri valori, fa parte dei nostri valori, quello di cercare di dare l'aiuto più qualificato possibile. Questo è il senso degli incontri di oggi, è il senso per il quale noi abbiamo chiesto a due professionisti, o ex professionisti dell'orientamento, visto che Roberta ha preso un'altra strada, c'era Cristina prima, che è un'altra persona che ci dà una mano. È per questo che noi abbiamo chiesto agli esperti di spiegarci e di passarci un po' di contenuto, no? Per dare il miglior aiuto possibile ai nostri fratelli. Anche quelli che ci fregano, perché Bruno faceva riferimento, che dobbiamo fare? Noi gli vogliamo bene lo stesso, pure se ci fregano. Fa parte della loro vita di stenti e di, come dire, tentativi di prese in giro. Noi però ne siamo consapevoli e siamo consapevoli che noi cerchiamo di dare l'aiuto più qualificato possibile, preparandoci, non improvvisando, nei limiti del ruolo che ognuno di noi ha. Questo è chiaro. Un conto è il call, un conto è il centro d'ascolto della parrocchia, un conto è una persona che fa questo di lavoro, un conto è chi ci si sta affacciando. L'importante è che noi inquadriamo, come dire, gli incontri che stiamo facendo proprio in questo. Noi incontreremo gente che ci delude. Fa parte della nostra scelta di accogliere, di assistere i nostri fratelli. Incontreremo gente che ci provoca una frustrazione perché noi avevamo avuto, avevamo investito, no? Su questa relazione in termini di impegno, di attivazione, avevamo investito tanto e questo ci frega, succederà. Noi dobbiamo essere abbastanza forti da, come dire, continuare a volergli bene lo stesso, anche se l'intervento si ferma. Questo lo dicevamo sempre nelle formazioni per i centri d'ascolto, no? La relazione continua, l'intervento si ferma. Quindi, detto in termini alti, me freghi una volta, non me freghi più. Però sappi che se all'interno di una relazione tu decidi di attivarti, di fare la tua parte, il nostro percorso è un pezzetto di strada preparato, qualificato, pensato per cercare veramente strutturalmente di innescare un processo di cambiamento. E quindi l'orientamento al lavoro, ragazzi, è una roba seria. Quindi noi facciamo un pezzetto in modo che siamo in grado di, come dire, di fare un invio orientato, lavorato, pensato, perché la relazione ce l'ha l'inviante, no? Io poi con Sonia, Sonia ha molta esperienza anche nell'orientamento, ma noi riceveremo delle candidature che sono mediate. In alcuni casi noi faremo l'orientamento di secondo livello, in altri casi noi ci, come dire, ci baseremo su quello che voi ci dite. Quindi ricordiamoci che all'interno proprio del nostro essere caritas il fatto di dare la dignità dell'aiuto migliore possibile che possiamo fare. Noi cercheremo, per fortuna il nostro mondo è pieno di professionalità, ma veramente poi in questa nuova avventura me ne sto accorgendo, noi cercheremo sempre di prepararci al meglio per aiutare le persone, non improvvisando, perché questo restituisce a loro la dignità. Ed è questa è la base, no? La funzione prevalentemente pedagogica, ve la ricordate, no? Ne abbiamo parlato tante volte. Questo restituisce a loro la dignità ed ha un inquadramento di senso rispetto a quello che noi stiamo facendo. Quindi veramente ringrazio di cuore Brune e Roberta rispetto a questo intervento che hanno fatto. Nel frattempo, visto che qualche manina si era alzata, considerate che sono le 18.40, e quindi non abbiamo moltissimo tempo. Però lasciamo uno spazio appunto alle domande, a chi volete, siamo qua. Posso? Filippo. Allora, intanto mi aggiungo anch'io complimenti, veramente mi sembrano qualcosa di molto bello, perché permette alle persone di acquisire consapevolezza, che di fronte al tema della ricerca del lavoro è fondamentale. Per questo mi chiedevo se nel bilancio delle competenze potesse avere senso mettere anche un riferimento a qualcosa tipo la retribuzione attesa, che è una cosa che non si mette sul curriculum, però può servire per aiutare le persone a mettersi in una sticella un obiettivo al quale tendere. Ti rispondo subito, Filippo. Non è proprio un argomento da bilancio delle competenze, però hai ragione, è un elemento. Nel senso che comunque è inutile inviare una persona a fare un'attività se sappiamo che magari quell'attività origina un certo tipo di, diciamo tra virgolette, di fatturato. Lo capisco, hai perfettamente ragione. Io la prenderei come nota informativa, però non la metterei nella documentazione così del bilancio. No, no, certo, non da far pubblicare, però come spunto per una riflessione, insomma. Poi il quarto punto è stato velocissimo, non mi è chiarissimo come funziona. Sì, il quarto punto è sostanzialmente quando Caritas ha ricevuto la nostra indicazione, il nostro materiale, era un po' quello che accennava Sonia all'inizio, no? Cioè la segnalazione da parte loro di eventuali opportunità, anche perché Caritas sta lavorando molto e sta creando una relazione di territorio anche con istituzioni, con enti formativi, con aziende. Quindi appunto, come diceva Monica, siccome è un percorso, ed è un percorso lungo e faticoso, però non è che possiamo noi sostituirci al legislatore o alle imprese. Però quello che possiamo fare, appunto, di vista di visione cristiana è appunto cercare di aiutare le persone in difficoltà a dargli delle informazioni corrette. Quindi ci arriveranno da parte loro, nella quarta fase, indicazione che magari appunto ci sono dei tirocini offerti, delle opportunità di lavoro. si va, diciamo, uno strumento che si va ad aggiungere tutto sommato a quello che ho detto prima anche io sulle app. Questo è molto importante che avvenga questo. Sì, e poi le vedremo nella prossima puntata, come dire, se noi svegliamo tutto subito e poi approfondiremo nella prossima puntata. Eh, Monicuzza. Eccomi, scusate, non mi si attivava l'audio. Intanto grazie a tutti quanti, grazie per l'incontro. Io vorrei tornare un attimo sul rapporto CDA-PTA per vedere quello che ho capito. Anche per l'esperienza del... Noi siamo stati PTA per il Fondo Gesù Divino Lavoratore e in quell'esperienza è stato molto proficuo il lavoro con gli altri. Quindi il PTA non è un mero compilatore di una scheda da mandare a voi. Il PTA è, diciamo, un'occasione di relazione che può essere più o meno approfondita a seconda delle capacità del CDA. E per capacità progettuali intendo anche semplicemente il numero di persone che si possono dedicare a questa cosa. Quindi, se non ho capito male, si tratta ogni volta di essere un po' elastici nel rapporto CDA-PTA sulla base del CDA che ti viene a presentare una persona sulla base di queste capacità. Ora, nel dire capacità non vorrei dire che c'è il CDA bravo o CDA meno bravo non è in questi termini, ma è oggettivo che se ci sono poche persone che si possono dedicare a questo, che hanno magari numeri grossi di utenza da affrontare, ci possono essere tante situazioni. Quindi il PTA non è semplicemente un compilatore. È una domanda. No, no, certo che no. Certo che no. Come dire, Monica, dipende molto dalle situazioni. Il CDA e il PTA per noi ha una funzione assolutamente di rimente in questa fase. Per noi è riferimento di territorio. Anzi, cioè, è un compito importante quello di fare da collettore e collante anche, no? Rispetto ai CDA delle parrocchie, a tutto il contesto della prefettura. è un livello, insomma, intermedio che richiede, che richiede un impegno e anche una visione, no? Bruno diceva, io so organizzare. Non è mica così facile organizzare, quindi si richiede anche quello, no? Un PTA. Quindi il tema nel quale noi non vogliamo entrare è, perché è troppo variabile all'interno del territorio, è lo fa il CDA, lo fa il PTA fino a un certo punto. Cioè, nel caso vostro, se voi eravate PTA, eravate anche CTA, voi la relazione con la persona ce l'avevate, quindi conoscevate, eccetera. Ci sono altre situazioni in cui i PTA non incontravano proprio le persone perché il loro metodo non glielo faceva, altri invece li incontravano sempre. Io su questo non vorrei entrare, nel senso che mi sembra anche interessante che si sperimentino a seconda delle realtà territoriali, delle modalità che siano, come dire, attinenti a quella che è la natura di quel territorio e di quelle persone. Se tu mi dici il PTA è solo un passacarte, ma assolutamente no. Noi cerchiamo di dire il PTA deve essere a livello intermedio, per noi sarà l'interlocutore, quindi è molto più che... La mia domanda era una domanda perché alla base, cioè diciamo, sono state prima tante domande che mi hanno messo un po' in confusione su questo. Cioè, il PTA ha lo stesso ruolo del PTA del progetto Gesù Divino Lavoratore e voglio fermarmi più sulla seconda parola che hai usato, cioè collante, l'idea che comunque metta insieme relazioni con i CDA al di là del singolo progetto. Assolutamente. Noi auspichiamo che all'interno dell'equipe del PTA ci siano persone di parrocchie diverse. Ok. Capito? Cioè, è per questo che è una cosa intermedia. Poi certo, è un percorso, ragazzi. Sappiamo, conosciamo il nostro mondo e sappiamo quanto questa cosa richiederà tempo e ha ampi margini di miglioramento come diceva Bruno prima. Nel senso, no? È sicuramente un aspetto un aspetto delicato. Però, sì, insomma, è importante. Noi speriamo che siano quelle persone che affianchino appunto l'incaricato di prefettura con una valigetta di attrezzi tecnici che possano poi mettere a loro volta a disposizione. Se noi facciamo questa formazione da qui a due anni magari i PTA saranno in grado di rifarla e ci dia della prefettura. Io ho questa visione, cioè io, insomma, abbiamo questa visione in generale, insomma. Personalizzo un po', ma perché sono gasata rispetto al progetto, però spero di ti risposto, Monicuzza. Grazie, sì. Monica, la biella, eccola. Monica, buonasera a tutti e grazie a Bruno e a Roberta delle importanti informazioni. Soprattutto due questioni eh di natura tecnica e anche a livello forse psicologico. Due eh domande. Una tecnica a Bruno ehm nel eh redigere questa eh visuale visualizzazione delle app e delle agenzie eh che eh di lavoro ehm mi risulta che ci siano quelle accreditate e quelle non accreditate. Eh in questo senso quelle accreditate con le quali tra l'altro abbiamo anche avuto dei contatti molto qualificati e molto corretti e poi dopo si aggiunge eh si aggiungono quelle non accreditate che però eh ci bombardano di eh informazioni di piani eh di corsi di formazione eccetera ecco dobbiamo eh segnalare anche queste oppure eh le tralasciamo perché eh i loro corsi di formazione non vanno comunque sia a confluire in una eh in un attestato in una qualifica professionale guarda scindiamo hai fatto un'osservazione interessantissima scindiamo un po' il fenomeno allora eh le agenzie per operare devono essere accreditate eh sono accreditate perché sono registrate in uno speciale eh registro del ministero del lavoro eh quindi chi opera senza accreditamento è penalmente responsabile va in galera eh è diverso però quello che dici tu a proposito di chi fa formazione e chi offre corsi di formazione là purtroppo si apre un cinema ci sono una quantità impressionante di attori che eh si a volte anche in maniera assolutamente trasparente e pulita diciamo offrono opportunità a volte sono dei farabutti allora io non segnalerei opportunità formative a meno di non avere delle grandi conoscenze nel segmento di mercato perché è veramente difficile io stesso ti dico io ho fatto tanti anni il direttore del personale e tantissima formazione tante volte per me veramente nuoto nel mare magnum non ci capisco nulla quindi non mi sentirei di dare assolutamente un suggerimento di questo tipo anzi il suggerimento direi di stare cauti per quello che riguarda invece le agenzie le di somministrazione che sono il vecchio lavoro interinale la ripeto devono essere le agenzie del lavoro devono essere autorizzate e comunque c'è scritto proprio nei siti lo vai a vedere c'è proprio il numero di registrazione al ministro del lavoro quindi questo è un warning cioè un'allerta importante da dare a tutti assolutamente sì grazie sì la seconda domanda le quali con la quale mi sono trovata mi sono trovata a fronteggiare è una grossa difficoltà e questa la rivolgo anche a Monica e all'equipa la grossa difficoltà quando si fa il bilancio delle competenze è la grossa difficoltà che si incontra nello stabilire con la persona quelle attività quella professionalità cito una cosa banalissima l'abbadante l'abbadante dell'abbadante e naturalmente più di una volta ritornano da me perché magari è deceduta la persona della quale si prendevano cura ecco arrivati a questo punto è una persona giovane con una certa professionalità in fatto di assistenza naturalmente io provo ad inserire la la adesione a qualche corso per OS operatore socio-sanitario che può in qualche modo indurre un tipo di lavoro che è più continuativo più professionale e che assicura una certa continuità mi riesce difficile far passare questo concetto dell'oggi e invece della prospettiva per il futuro guarda non è certamente banale quello che dici anzi peraltro spesso diciamo il bacino di utenza di persone che fa questo tipo di attività quasi sempre straniero io peraltro ti dico ho avuto anche la mia avevo la mia azienda che faceva assistenza domiciliare quindi il problema delle badanti l'ho anche vissuto come imprenditore ed è un problema di difficilissima soluzione veramente di difficilissima soluzione non c'è dubbio che se una persona ha un minimo di spessore anche di voglia di crescere eccetera quello che suggerivi tu è un'idea estremamente vincente c'è un percorso per farla diventare operatore sociosanitario può essere veramente un'opportunità approfitto di questo breve intervento per rispondere anche a due domande che ho visto sono state scritte in chat qualcuno mi chiedeva a proposito delle app allora nella presentazione ne sono indicate alcune quello che però io mi sento di suggerire è anche voi proprio come operatori del PTA magari scaricatevele una o due provatele un po' guardatele un po' familiarizzateci un pochettino e così magari vi sarà più facile anche tra qualche settimana quando incontrerete qualcuno dagli qualche suggerimento poi comunque ripeto ognuno si deve attivare quindi ce ne sono sicuramente tre o quattro che vanno per la maggiore ma sono indicate nella presentazione ma ce ne sono tante quindi l'importante è che però le persone ne scarichino almeno una e ci si registrino i dati perché ad esempio come funziona io per esempio so fare appunto le pulizie ho fatto solo in vita mia le pulizie tutta la vita benissimo allora ci sono proprio gli spazi dentro queste app in cui tu registri le tue competenze se ad esempio non parli inglese uno che deve fare le pulizie a meno che non debba lavorare all'ambasciata britannica probabilmente parlare l'inglese non gliene frega niente e quindi non serve però può essere più importante magari indicare che sei disponibile ad alzarti alle quattro di mattina perché per andare a fare le pulizie magari alle cinque devi stare in ufficio a lavorare e a questo proposito un altro amico fa una segnalazione che mi sembra assolutamente giusta cioè di indicare nel modello del bilancio di competenze oltre alla disponibilità territoriale anche alla disponibilità di tempo assolutamente sì ora lo modifico lo mando a Sonia così poi lo potrà distribuire mi sembra un'osservazione assolutamente giusta ok va bene io andrei verso la conclusione visto che sono se c'è qualche altra domanda qualcun altro che voleva intervenire io volevo dare solo un suggerimento eccola Cristina vai una cosa che mi hanno insegnato quando appunto ho iniziato questa questa attività che faccio anche per professione e suggerirei a tutti di fare per se stessi un bilancio delle competenze un curriculum un giro sulle app una ricerca di occupazione anche proprio per mettersi per mettersi alla prova perché quando poi parliamo con i nostri utenti non non dobbiamo offrire diciamo delle scatole che non abbiamo mai aperto condivido in pieno perché si si sperimenta anche la difficoltà di fare questa cosa perché sembra banale ma farsi un curriculum e farsi un bilancio delle competenze costringe a interrogarsi profondamente e tra l'altro noi spesso incontreremo degli utenti che o non parlano bene italiano o non sanno leggere e scrivere italiano quindi il bilancio delle competenze per forza di cose lo dovremo fare insieme a loro perché non saranno in grado magari di leggere il modello che gli vogliamo dare e sarà molto utile e saremo più credibili quando parleremo con l'utente ringrazio Cristina che è uno degli altri amici tecnici che ci stanno sostenendo in questa fase con tutte le sue indicazioni di contenuto e di strumenti quindi quello che dicevamo prima insomma tutte le attivazioni delle persone esperte bene abbiamo tempo per un'ultimissima domanda se no io andrei a chiudere vi lascerei andare a cena e immagino insomma chi mangia di voi forse un po' presto condivido anch'io quello che diceva appunto Cristina è una cosa molto importante interessante quindi ti ringrazio e sulla scorta di quello che hai detto mi viene anche da dirle da proporre potrebbe anche lasciare il tempo che trova farselo reciprocamente tra i membri del PTA cioè potrebbe scatenare anche una bella contaminazione e conoscenza reciproca che purtroppo spesso manca anche tra di noi potrebbe essere anche un modo carino no? così giusto per chiudere insomma no mi sembra un'idea interessante adesso su questa cosa ci lavoreremo tutti i curriculum a Monica così sa come utilizzarci ogni volta che ha bisogno di qualche supporto non vi offrite ragazze con me non vi offrite troppo che vi rovinate la vita fatemelo dire dai sei poveretti che mi affiancano in equip no mi sembra interessante potremmo immaginarla questa cosa adesso vediamo facciamo il prossimo incontro così chiudiamo insomma con con tutto il giro del contenuto e poi valutiamo insieme come proseguire mi sembra interessante speriamo di poterlo fare anche in presenza e quindi immaginare delle attività no? anche un pochino articolate anche dei giochi insomma un po' di cosine carine da fare chiedono dove recepire le registrazioni e vi arriveranno vi saranno mandate adesso mi ha spiegato Giuliana come si fa appena capirò bene bene come si fa lo farò nel senso che le devo mandare a Monica dicendo chi di voi vuole le registrazioni poi vi sarà inviato il link sul canale riservato di Caritas Roma per poter accedere così come abbiamo fatto per gli altri corsi di formazione dateci qualche giorno però per prepararlo perché non sarà pronto subito ma abbiamo i colleghi che ci aiutino a farlo ok grazie vedi la sapeva eh beh no l'ho scoperta stamattina è vero? poi io poi me ne rendo le cose brava ragazzi va bene signori allora si sono fatte le diciannove diciotte e cinquantanove quindi io vi libererei per questa sera ringraziandovi tantissimo veramente della parte di situazione e grazie a tutti grazie a tutti buonasera a tutti grazie a tutti buonasera a tutti buonasera buonasera ciao grazie ci vediamo ciao ciao Robby ciao alla prossima ciao 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 Giulia rimane un attimo così mi spieghi sta cosa anzi la spieghi a Sonia sì sì ti aspetto ciao grazie ciao Giuliana ciao Monica ciao buonasera ciao buonasera Monica da Pietro grazie ciao 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 ok io allora adesso interrompo giusto interrompo la registrazione interroppo